Un saluto a tutti da Fondazione AERC per la ricerca sul cancro. Questa sera noi ci occupiamo di staminali tumorali, un argomento interessantissimo e vi presento subito gli ospiti che sono ricercatori sostenuti da AERC con cui affronteremo questo tema. Saluto subito Ann Zeuner, primo ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Ann, ben trovata, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Saluto anche Pier Giuseppe Pelici, direttore della ricerca dell'OIEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buonasera Giuseppe, Pier Giuseppe. Buonasera, grazie mille, buonasera a tutti. Allora, ho detto un tema molto interessante, io direi di partire subito perché di queste staminali del cancro si parla molto, voi tra l'altro le studiate, perché sono diverse popolazioni, quindi Ann si occupa di intestino e polmone, invece Pier Giuseppe le ricerca come tumore del seno e staminali tumorali della leucemia. Quindi oggi approfondiremo questi temi e cercheremo di capire che cosa sono. Allora, Ann, parto subito con la prima domanda che ovviamente è scontata, che è che cosa sono queste cellule staminali tumorali. Diamo una definizione e soprattutto, siccome abbiamo imparato negli anni a conoscere le staminali normali, sappiamo che sono delle cellule, tra virgolette, madri, eccetera. Ecco, possiamo immaginarle un po' così? Sì, infatti le staminali tumorali sono cellule che in un determinato contesto, in un determinato momento hanno proprio una maggiore capacità di generare altre cellule tumorali, ma anche in qualche modo di sfruttare l'ambiente circostante a loro favore e di resistere a delle condizioni che sono mortali per le cellule non staminali, come per esempio la carenza di ossigeno, le terapie antitumorali o gli attacchi del sistema immunitario. Abbiamo anche qualche bella foto di cellule staminali tumorali fatta nel nostro laboratorio. Questa è una sfera di cellule tumorali dell'intestino arricchite in staminali. Volevo sottolineare che le staminali non sono un'entità fissa e ben definita, ma come ho detto prima sono staminali in un determinato contesto e in un determinato momento, cioè sono una popolazione dinamica. Questo significa che possono aumentare o diminuire a seconda dei segnali che ricevono e questa è una buona notizia, perché con delle opportune terapie e agendo sul microambiente tumorale possiamo riuscire a neutralizzare o addirittura ad eliminare le staminali. Popolazione dinamica mi piace molto questa definizione, ma secondo me quando una popolazione dinamica deve essere anche molto difficile a un certo punto farne la fotografia in un momento e studiarle, forse per questo che è difficile studiarle. E soprattutto colpirle come un bersaglio mobile. Allora Pier Giuseppe, puoi riassumere le caratteristiche principali delle staminali tumorali? Poi via via nel corso della diretta approfondiremo anche queste caratteristiche perché voi le studiate con le vostre ricerche, ma possiamo dare un quadro di quali sono le peculiarità delle staminali del cancro. Beh sì, descrivere quali sono le peculiarità, quindi sostanzialmente le differenze dalle cellule staminali normali. Ora mi vengono in mente due principali differenze. Voi immaginate come hai detto tu Michela e Anna, la cellula staminare è una cellula mamma, quindi nel momento in cui esplica la sua funzione di mamma due cose deve fare, tenere se stessa e pensare alla progenie, ai figli. Ecco, la cellula staminare lo fa in maniera splendida in una singola divisione cellulare, cioè quando la cellula staminare si divide una cellula figlia rimane staminare, l'altra cellula figlia comincia a fare il tessuto. Questa divisione in una vita di una persona non avviene tante volte, avviene 7-8 volte, per esempio per le cellule staminali del sangue. Perché? Perché altrimenti vengono fuori tumori. Ecco, se voi immaginate la cellula staminare del cancro è due proprietà clamorosamente diverse. La prima è che invece che dividersi in maniera asimmetrica, come ho appena detto, tendenzialmente si divide in maniera simmetrica e quindi ne fa tante, tante cellule uguali a se stesse. Due invece che dividersi 6-7 volte, si divide infinite volte. Ecco, queste due proprietà chiaramente sono diverse nella staminare del cancro da quella normale. Capite che dividersi infinitamente e fare tante copie di se stesse non fa un tessuto normale, fa un brozzo, che è il tumore, è una roba che cresce continuamente. Queste sono le caratteristiche principali. Allora, adesso ho delle altre domande per voi, ma prima volevo salutare chi sostiene AIR che ci segue, allora saluto Stefano, saluto Marcella e saluto Antonella che ci hanno scritto e ci stanno seguendo. Ovviamente se avete domande su questo argomento potete scriverle nella chat, nei comments. Allora, Anne, prima abbiamo detto una popolazione dinamica, quindi bisogna poi a un certo punto inquadrarle e soprattutto poi riuscire a bloccarle, a eliminarle. Però prima bisogna anche capire quali sono, cioè come fate a riconoscerle e a distinguerle dalle altre staminali, tra virgolette, normali o dalle altre cellule tumorali? In realtà negli ultimi dieci anni sono stati proposti tanti identikit per le cellule staminali tumorali e c'è stato un periodo in cui continuamente uscivano nuove pubblicazioni che dicevano le cellule staminali tumorali si riconoscono perché esprimono questa proteina sulla loro superficie. Ma in realtà questi sistemi spesso si sono dimostrati limitati proprio perché le cellule staminali tumorali sono una popolazione molto dinamica e molto eterogenea. Eterogenea vuol dire che si ramificano in tante sottopopolazioni diverse, dinamica vuol dire che cambiano continuamente la loro interfaccia con l'esterno e anche le proteine che esprimono sulla loro superficie. Quindi i modi più efficaci per riconoscere le cellule staminali tumorali si basano sulle loro caratteristiche funzionali cioè prima di tutto come diceva Pier Giuseppe sulla caratteristica di generare altre cellule tumorali particolarmente quelle staminali o anche per esempio la loro robustezza quindi la loro capacità di resistere alle radiazioni o alla chemioterapia. Quindi è per questo che delle volte il tumore resistente c'è la complicità anche delle staminali che si nascondono perché se mi dici che resistono alla chemioterapia vuol dire che inducono poi fenomeni di resistenza. Correggetemi se dico delle stupidaggini, vi vedo annuire però e sono confortata. Quindi dimmi. Sono responsabili non solo per la resistenza alla chemioterapia ma spesso anche per la recidiva tumorale e anche per le metastasi. Quindi è per questo che sono tante studiate. Sono pericolose a 360 gradi. Allora intanto cominciano ad arrivare domande saluto anche gli altri che ci hanno scritto e poi le domande risponderemo un po' verso la fine. Adesso entriamo un po' nel merito delle vostre ricerche. Parto con Pier Giuseppe per cui io ho una curiosità perché io so che tu stai, ti occupi prevalentemente di staminali tumorali del seno già da molti anni e anche quelle delle leucemie. E le studi in parallelo. Perché studi in parallelo queste due popolazioni? Ma ci sono direi due principali motivi. Innanzitutto con le leucemie ho iniziato perché ho iniziato la mia carriera, i miei studi di ricercatore nel campo delle leucemie e poi mi sono mosso sulle staminali della leucemia. Poi l'ho esteso anche alle staminali del cancro. Dicevo questi due modelli per due motivi. Il primo è puramente tecnico. Come accennava Anna ogni ogni staminare ogni tipo di tumore ha un po' le sue caratteristiche e offre delle opportunità di studio e delle difficoltà di studio. E quindi alcune domande mi era più facile risponderle in un sistema ed altre più facile nell'altro. In particolare il problema della quantizzazione. Secondo motivo perché uno vorrebbe sempre comprendere meccanismi fondamentali e cioè validi o per tutti i tumori. Quindi quando scopriamo, almeno questo abbiamo fatto spesso così, un meccanismo responsabile di un problema a carico delle staminali del cancro in un sistema, se è un meccanismo fondamentale, universale, lo ritrovi anche nell'altro. Ed è anche un po' un modo per andare al cuore del problema. Quello di chiedere che siano cose comuni perché poi i tumori sono diversi l'uno dall'altro ma hanno meccanismi biologici fondamentali che li accomunano fra di loro. Ecco per questo mi sono trovato alla fine a rompermi la testa non con uno ma con due perché poi la confusione è tanta. Allora, adesso poi ti chiedo di spiegare un po' che meccanismi stai studiando, quali hai già scoperto e su cui hai pubblicato, però ho una curiosità che è un macro pensiero, pensando a quello che ci avete appena raccontato sulle staminali del cancro. Ma se io riesco a trovare un modo per uccidere la staminale tumorale, blocco il tumore, cioè non prolifera più, non va avanti più. E' per questo che è molto importante studiare perché è una pedina importantissima la staminale se è quella che genera le altre cellule è prolifera. O sbaglio? Chi mi risponde? Allora, in teoria quello che hai detto è giusto, ma se tu hai davanti un esercito nemico e riesci con una freccia a uccidere il capitano, cosa succede? Che probabilmente un altro prende il suo posto. E questo è stato visto anche purtroppo succedere con le staminali. Per cui adesso vanno anche abbastanza degli approcci, diciamo che dovrebbero impedire ad altre cellule tumorali di staminalizzarsi, quindi che bloccano la plasticità tumorale. Perché queste staminali hanno questa caratteristica, anche sono staminali, ma anche la cellula tumorale normale può ridiventare staminali? Esatto, come ti dicevo prima, in un determinato contesto e in un determinato momento sono staminali, quindi possono non esserlo più domani, ma un'altra cellula che non lo era può diventarlo. Ma le cellule normali nostre no? No, no, affinché una cellula staminale nostra normale diventi tumorale ci vogliono anni di stimoli, diciamo, adatti. Scusate la precisazione, però quello che ci hai detto ci fa capire quanto, quando io dico il tumore è subdolo, è molto più subdolo di quello che noi immaginiamo. Cioè pensare che una cellula tumorale può ridimentare staminale e quindi proliferare ulteriormente è veramente una cosa che dobbiamo avere tante armi per combatterlo. Allora, Pier Giuseppe, torno da te, raccontaci un po' su che cosa ti stai concentrando in questo momento, sui meccanismi che stai studiando appunto per riuscire a capire come funzionano queste staminali tumorali e a bloccarle in qualche modo. Sì, dunque, in questo momento l'argomento, diciamo, la cosa che ci interessa di più nel laboratorio è cercare di capire qual è la riserva, cioè perché questa cellula staminale non si esaurisce come fa la cellula normale. Ora, la cellula normale, quel poco che riesce a fare, vi ho detto prima che in una vita si divide sette volte, queste sette volte sono più di una, più di due, perché riesce a farne ne fa sette, ne fa sette perché si difende dal consumarsi, non dividendosi, dormendo. Una cellula staminale normale passa la maggior parte del suo tempo a dormire e questo dormire, diciamo, gli restituisce forza fino a un certo punto. Allora, noi la domanda che ci poniamo in questo momento è, ma anche le cellule staminali si difendono? Dal consumo, dall'usura, dormendo. Gli staminali tumorali, dici? Sì, gli staminali tumorali. E la risposta è sì, nel senso che le cellule staminali tumorali hanno una bella frazione, una bella fetta di loro, dorme, è dormiente. E questa dormienza è responsabile della sua, in qualche modo è necessaria alla cellula staminale del cancro per star sveglia. Sembra un paradosso, però se ci pensa non è poi tanto paradossale che si rigeneri il potenziale di crescita di una staminale addormentandosi un po'. Ora voi capite che questo crea qualche problemino, perché prima, come dicevi tu, Michela e Anna, un obiettivo è spararli alla staminale. Poi adesso l'obiettivo è anche sparare a quella che sta zitta, quella che sta ferma, quella che dorme. Quella che dorme pone qualche problemino in più. O per esempio la chemioterapia uccide preferenzialmente le cellule che proliferano. E quindi, ecco, un po' questo è l'argomento che ci interessa di più. Anche perché alcune cose fanno pensare che sia proprio quella che dorme che è responsabile delle ricadute, quando sapete di tumore purtroppo sapete che spesso dopo aver risposto alla terapia ricade, o della metastasi. Come diceva Anna, queste sono le due grandi funzioni malefiche di queste cellule, la ricaduta da una parte, in genere la resistenza e la metastasi. Ecco, forse la quota dormiente è la quota più malvagia. Sembra un paradosso, però ecco, questo è il meccanismo che in questo momento ci appassiona. Ma c'è un meccanismo, cioè queste sono le quiescenti, ma per identificarle, per capire quando si svegliano, ci sono questi un po' gli obiettivi di come… Sì, su questo siamo abbastanza capaci, Michela. Ok. Penso che abbiamo degli strumenti che ci consentono di isolare le cellule che non proliferano mai, sono dei metodi che sono abbastanza efficaci. Quindi isolarle non è difficile, averle in mano. Difficile è capirle, come sempre. Che di nuovo c'è strada da fare, Michela. Cosa hai capito fino adesso di questo esame? Cioè, dei passi avanti sono stati fatti rispetto alle quiescenti. Ci sono dei meccanismi che sei riuscito col tuo gruppo a capire rispetto a queste quiescenti? Ci sono meccanismi che stiamo studiando, anche in una fase piuttosto avanzata, insomma vicini anche a poter cominciare, nello specifico, a scrivere. Ecco, detto in maniera molto generale, è verosimile che l'ambiente svolga un ruolo molto importante nella determinazione della quantità di celpi che dormono, in particolare generando segnali di stress. Ora, lo stress è antropomorfico, nel senso che sembra una cosa vaga, però per noi è una cosa molto precisa, perché sono particolari molecole, particolari geni che entrano in azione. Come diceva Anna, sono possibili bersagli, bersagli, nel senso che se queste molecole, questi geni dello stress, dovuti all'ambiente tumorale, che è malvagio, non c'ha ossigeno, se li colpiamo allora speriamo di poter bloccare queste cellule, uccidere queste cellule. Per cui c'è un assedio che stai cercando di mettere in atto, per dare un'idea. Ma non sono il solo, Michela. Noi sorridiamo, ma è che è difficile immaginare, sono veramente subdole, dormono, poi se si svegliano prolifinano, poi magari dopo una normale torna indietro e ridiventa staminali, cioè bisogna assediarle a avere mille percorsi e mille strategie per riuscire a capire come bloccarle. Vado da Anna per farmi raccontare un po' lei che cosa fa, tra l'altro ci hai portato anche delle foto, delle altre immagini, adesso le vediamo man mano che ci racconti. Quindi fai intestino e polmono, anche tu studi in parallelo anche tu le due popolazioni. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto con il nostro gruppo di ricerca, direi, mi sento di dire, dei bei passi avanti nel capire le staminali tumorali quiescenti dell'intestino. Abbiamo fatto un po' un quadro della loro situazione molecolare e capito che per esempio esprimono delle quantità molto più alte di alcuni fattori che le proteggono dalla morte cellulare. ecco, queste sono sempre delle sfere di cellule tumorali intestinali arricchite in staminali. Ecco, e questa è un'altra sfera dove ci si vedono i nuclei colorati in bianco e quei nuclei che sono fatti tutti a pallino sono nuclei di cellule che si stanno dividendo. Ecco, i nostri studi sembrano andare un po' verso la direzione che il modo migliore forse per neutralizzare queste cellule staminali tumorali quiescenti è quello di mantenerle nello stato dormiente possibilmente per tutta la vita e questo si potrebbe fare con opportune terapie ovviamente poco tossiche perché sono da prendere per tempi prolungati ma anche agendo sul microambiente di queste cellule in modo da renderlo inadatto a risvegliarle. Cos'è un microambiente inadatto a risvegliare le cellule staminali tumorali? È un microambiente più possibile sano, ben ossigenato, non intossicato e siccome mi occupo di tumori del polmone e dell'intestino un microambiente sano e inadatto alle staminali tumorali è quello che per esempio non è intossicato nel polmone da fumo di sigaretta o nell'intestino da cibi industriali di cattiva qualità. E qui ho portato alcune foto di intestino normale ecco che sono molto belle da vedere. Questo è un intestino normale, cioè che cellule sono queste? E sono cellule epiteliali intestinali. Tutte così colorate? Beh sì, sono colorate per colorare delle strutture diverse. E questa? Questo è sempre intestino normale. Ma che belle che sono queste foto! Sono molto belle e abbiamo un artista in laboratorio che si chiama Michele Signore che vorrei ringraziare per appunto averci prestato queste foto. Molto belle, perché voi le colorate per riuscire a capire la struttura proprio dei tessuti. Queste ultime che la regia giustamente ci sta facendo scorrere e anche quella di prima sono molto belle. Queste cosa sono? Sempre intestino? Sì, sempre intestino. Cellule epiteliali. Che belle che sono. Sono invigliosissimo di queste immagini. Bellissimo. Adesso le faccio vedere i miei costruttori. Sono veramente belle. I rogni civili. Allora, se ho capito bene, Pier Giuseppe sta studiando dei meccanismi di assedio e tu stai cercando di farle rimanere dormienti. Sì. In maniera molto semplice. No, scusate se io sintetizzo. Allora, stiamo parlando di aspetti della ricerca che sono molto difficili anche da spiegare perché poi andiamo in meccanismi molecolari che sono difficili da padroneggiare anche per me che in fondo mi occupo di divulgazione scientifica. Quindi un po' uso delle metafore per far capire che ci sono tante strategie diverse perché queste popolazioni, come ci stanno raccontando Anna e Pier Giuseppe, hanno veramente mille vite perché possono trasformarsi, sono dinamiche e quindi continuano a mantenere vivo il tumore in questo modo. Anna, ti ho interrotto per commentare le foto ma se vuoi aggiungere qualcosa per raccontare ancora qualcosa, vai. Soltanto un'esortazione a tutti noi a mantenere più sano possibile il nostro microambiente interno in modo da renderlo diciamo inadatto alle staminali e nel caso ci dovessero essere delle staminali tumorali come in pazienti curati mantenerle dormienti possibilmente per tutta la vita. Allora, parliamo di a che punto siamo con le possibili terapie che in qualche modo vadano a contrastare le attività di queste staminali tumorali. Prima voi dicevate, abbiamo detto sono quelle che praticamente danno la resistenza perché la chemioterapia per esempio gli fa un baffo, come si suol dire però noi abbiamo anche anticorpi monoclonali farmacia, bersaglio cioè abbiamo ad oggi qualche strumento a disposizione oppure ci sono stati fatti i passi avanti nella ricerca per riuscire a controllare almeno un aspetto di queste tumorali? Chi risponde? Pier Giuseppe, vai. Pier Giuseppe, grazie Anna. Dunque, sì, certo, c'è tanto da fare ma anche molto è stato fatto ora riferisco per così in modestia un approccio che abbiamo un po' contribuito a identificare sempre relativo a quello che vi dicevo prima questa capacità dilatata delle cellule staminali del cancro di dividersi simmetricamente e continuamente durante il tempo ecco, una molecola non sorprendentemente un gene che controlla questi fenomeni e che è alterato nei tumori EP53 quindi questo è il gene responsabile di questi due comportamenti anomali delle cellule staminali ecco, perché è responsabile nel senso che la sua funzione si abbassa nei tumori e lui e i tumori le cellule staminali del cancro si comportano come vi ho detto ecco, ci sono dei farmaci i quali riattivano la funzione di EP53 sono chiamati natline e questi farmaci hanno l'effetto atteso nel senso che riducono le repliche di numeri di volte che si dividono le staminali e ristabiliscono una divisione asimmetrica quindi insomma riducono poi di fatto il tumore ora questi sono farmaci che all'inizio parlo di qualche anno fa hanno mostrato un po' di tossicità nei primi clinical trials sono state generate molecole di seconda e terza generazione e adesso sembrano insomma aver preso una strada un pochino più spedita poi come citavi tu Michela ci sono dei anticorpi Anna lo diceva prima conosciamo delle molecole specifiche sulla superficie di queste cellule ci sono dei anticorpi che le riconoscono e questi anticorpi sono in sperimentazione clinica per la loro capacità di ucciderli quindi io direi che non è che non si è fatto nulla si è fatto molto e ci sono tanti 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 approcci io sono un ottimista di natura non è pensabile anche noi e anche chi ci sta seguendo tra l'altro che è un pochino di tempo non è una questione di sé e comunque non so se Anna vuoi aggiungere qualcosa per quello che è diciamo il tuo percorso di ricerca in questo senso a quello che ha detto Pier Giuseppe Pigi come l'hai chiamato sì volevo dire che sono stati fatti dei grossissimi passi avanti per merito della ricerca tant'è che la speranza di vita per molti tumori è aumentata moltissimo basti pensare al tumore della mammella per esempio le terapie ormonali che si fanno adesso sono un modo per mantenere dormienti delle eventuali cellule tumorali che sono rimaste dopo l'asportazione chirurgica del tumore della mammella è un esempio chiarissimo considerando anche tutte le donne che appunto sono stanno facendo l'ormonoterapia questo è un esempio chiaro proprio di di come mantenerle mantenere fermo il tumore grazie perché a volte è sempre difficile capire insomma quello che possiamo dire è che le strade sono tante e che ogni pezzettino aggiunge un tassello a questo percorso che stiamo facendo per riuscire a controllare queste staminali perché se riusciamo a controllarle abbiamo già fatto tanti passi in avanti allora io devo ringraziare un po' di chi di coloro che ci stanno seguendo e ci stanno scrivendo e sono sostenitori di AIRC e quindi grazie innanzitutto allora saluto Francesca grazie di cuore per tutto quello che fate Rina che dice grazie per le ricerche che state facendo Marcella ci fai una domanda a cui non possiamo rispondere perché ci chiedi il carcinoma della rinofaringe con metastasi alle osse al fegato che speranza ha con le staminali è una domanda a cui ti risponderemo separatamente perché noi stiamo parlando di staminali del cancro e non di terapie con staminali e quindi non riusciamo a darti una risposta adesso ma diciamo lo staff di AIRC vedrà di darti se possibile una risposta poi ancora Marilena che ci ringrazia vi ringrazia anche Graziella e poi Maurizio che fa una domanda a che punto è la ricerca per impedire la migrazione delle staminali tumorali abbiamo un focus su quella che è la migrazione quindi che porta le metastasi chi vuole rispondere? allora diciamo che dai magari aggiungi qualche cosa a quello che dico io sicuramente è una tematica importantissima questa di capire innanzitutto i meccanismi con cui le cellule tumorali si staccano dal tumore primario e migrano attraverso il circolo sanguigno e diciamo si insediano negli organi che poi in cui poi si svilupperanno le metastasi probabilmente il momento in cui le cellule tumorali sono nel circolo sanguigno è un momento in cui queste cellule potrebbero essere particolarmente vulnerabili a delle terapie perché in quel momento non hanno un microambiente intorno che le protegge è anche vero che queste cellule tumorali quando sono nel circolo sanguigno si difendono proprio entrando in uno stato di quiescenza per essere più robuste quindi diciamo che è un po' una rincorsa le cellule tumorali adottano mano a mano meccanismi di difesa sempre diversi e noi cerchiamo di stargli dietro cercando di colpirle nelle varie fasi del loro ciclo vitale vuoi aggiungere qualcosa una piccola cosa che mi ha a mente mi ha ascoltando Anna quello della migrazione è un altro cosa enorme che voi immaginate è una delle cose più antiche che esistono in biologia immaginate un batterio che è stata scoperta la queste cose che nel momento in cui finisce il cibo che ha intorno prende migra e va verso la fonte di cibo questo è esattamente quello che fanno le cellule tumorali quando sono affamate per esempio sono lontane dai vasi sanguigni come diceva Anna il tumore manca ossigeno perché non ha vasi né ha meno di quelli che dovrebbe avere allora cosa fa la cellula tumorale cambia fenotipo cambia stato cammina migra e va verso il benessere è solo che il benessere non ci conviene tanto perché corrisponde al sangue e corrisponde alla sua diffusione quindi la migrazione e in questo processo diventa staminale che è quello che dicevamo che si cambia faccia da cellula tumorale diventa cellula staminale del canto e tutto parte con la migrazione per allontanarsi da dove c'è scarsezza di risorse andare verso la ricchezza delle risorse proprio maligne ma non scappano allora saluto anche Marilena Graziella Mirella ci ha mandato un messaggio che non so allora aspetta dice sono i messaggeri che bisogna indagare si è parlato tanto di RNA messaggeri in questo periodo non so se vi concentrate anche su questi aspetti mRNA sì assolutamente sì perché appunto andando ad analizzare l'mrna prodotto dalle cellule tumorali si capiscono tante cose non solo mrna ma anche altri tipi di rna utili nella vita della cellula adesso si fa molto quello che si chiama rna sequencing sequenziamento dell'rna che ci permette di avere una visione globale di tutta l'espressione genica della cellula allora io stiamo andando verso la fine della puntata abbiamo descritto un po' siamo riusciti penso a descrivere a far capire un po' queste tumorali staminali tumorali che caratteristiche hanno adesso per chiudere io vorrei un po' presentarvi un po' di più e raccontare anche qualcosa di voi e soprattutto ringraziare anche i vostri team perché io ho voi qui ma io so che dietro di voi ci sono dei gruppi di lavoro quindi parto con Ann perché ci hai portato anche delle foto di vari momenti diversi e con tante tante donne anche tanti che lavorano con te raccontaci un po' qui dove siete e qui abbiamo fatto un paio di anni fa un convegno internazionale sui tumori del colon e qui sono con il grande team femminile che ha organizzato il convegno e alcune persone sono anche le persone che lavorano con me nel laboratorio però ce ne è portate altre qui ci sono altre due colleghe sì 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 sono momenti diversi diciamo qui ho una tesi di dottorato e qui sul balcone del nostro istituto e in particolare vorrei ringraziare due delle ragazze che si vedono in queste foto Federica e Maria Laura che sono veramente le colonne portanti del mio laboratorio ok ovviamente le foto sono in epoca pre-covid che così vediamo anche i visi e questo è uno scorcio del laboratorio ok anche Pier Giuseppe ci ha portato due foto anche queste in epoca pre-covid vediamo se la nostra regia ce le manda siete un bel gruppo anche qui sì questo è un gruppo un po' misto con altri comunque sì un bel gruppo persone splendide tutte tutti quelli che i giovani che si dedicano così entusiasticamente alla ricerca merita il nostro rispetto il nostro sostegno anche ma quanti siete in laboratorio adesso nel mio gruppo siamo una ventina qui eravamo un po' più perché ripeto era una festa dove si sono unite altre persone però una ventina il mio gruppo quello diciamo con cui i miei più stretti collaboratori che è un grosso gruppo anche però Pier Giuseppe ma quando hai deciso di dedicarti alla ricerca c'è stato un momento della tua vita in cui hai capito che questa era la strada cioè ti ricordi proprio io ricordo quando ho iniziato avevo poche idee confuse mi ricordo che quando andai a scrivermi all'università ero indeciso fra fisica e sociologia e scienze in medicina proprio però poi ho capito cos'era questa ambivalenza perché dove è stata la mia svolta quando sono stato negli Stati Uniti dopo la laurea che ho scoperto allora si chiamava la biologia molecolare e cioè la possibilità di non vedere la medicina come un'arte ma come una cosa un pochino più scienza e lì veramente è cambiato lì mi sono innamorato davvero e tu Anna hai avuto un momento poi un'altra domanda per Anna anche hai avuto un momento particolare della tua vita ma in realtà anche io volevo fare fisica soltanto che dopo aver incassato una serie di bocciature sono finita a biologia come piano B diciamo ma poi sono stata contenta del mio destino senti questa scusami per Giuseppe ma è una domanda che devo fare a Dan perché so che ha due figli un adolescente un quasi adolescente e in questo momento dobbiamo sostenere di più le ricercatrici le donne perché io non ce l'ho con i ricercatori ma poi alla fine quando sei a casa con i figli piccoli è inutile cercano la mamma soprattutto e quindi in questo momento avendo un team di donne credo che sia un po' complicato anche organizzarsi però chi dirige un laboratorio di genere è organizzatissimo e quindi probabilmente ce la si fa insomma ce la si fa ma a costo di grande stress e grandi sacrifici personali infatti è molto difficile lavorare specialmente nei periodi di chiusura delle scuole che sono molto penalizzanti per le donne e hanno fatto anche uno studio scientifico che mostra come durante il lockdown dell'anno scorso sono diminuiti sostanziosamente i lavori scientifici pubblicati da donne come primo autore mentre i lavori pubblicati da uomini come primo autore non hanno subito questa diminuzione e questo penso che dica tutto però io difendo anche molti ricercatori perché so che molti anzi in alcuni casi in alcune dirette avevamo i bambini che passavano e quindi anche loro diciamo partecipavano a questa situazione certo che in generale con il lockdown anche il primo lockdown di un anno fa per i ricercatori è stato molto difficile riuscire a gestire le ricerche perché poi all'inizio si è chiuso tutto i laboratori erano chiusi quindi gestire tutto un po' da casa adesso state recuperando a fatica il tempo perduto dico questo per invitare tutti quelli che ci stanno mandando tanti messaggi a continuare a sostenere i ricercatori di AERC con le vostre donazioni perché sono importanti perché sono bravissime perché ce la mettono davvero tutti tutta posso dire un'ultima cosa penso che anche Pier Giuseppe si unirà a me ma questo è il nostro momento di ringraziare tutti quelli che sostengono AERC che ci sostengono dandoci la possibilità così di lavorare brava Anna non c'è da aggiungere altro grazie io aggiungo una domanda di Elisa perché mi sembra molto interessante anche se adesso stavamo parlando un po' di cose vostre di aspetti più personali perché è interessante con quale criterio viene scelto dalla cellula il sito di migrazione come si fa a contrastare le metastasi e soprattutto il criterio sappiamo qualcosa su dove decide di migrare cioè io so che alcuni tumori in genere danno metastasi in determinati organi però sappiamo alla base se c'è un gene che dice vai di qua vai di là detto in maniera proprio molto terra terra Pigi rispondi tu questa volta che sempre no ma guarda esistono innanzitutto motivi anatomici per cui per esempio è abbastanza intuitivo che un tumore dell'intestino possa frequentemente metastatizzare al fegato perché il sangue dell'intestino passa innanzitutto per il fegato ma non è solo questa è la spiegazione poi l'altra cosa e questo è oggetto di grande studio è che non ne abbiamo parlato molto ma la cellula staminale del cancro come quella normale ha bisogno di una nicchia ha bisogno di cellule che la ospitino con le quali toccarsi e nutrirsi e quando metastatizza si ricrea una nuova nicchia nel nuovo tessuto e non tutti i tessuti hanno le stesse capacità di ospitalità diciamolo così della cellula staminale del cancro perché dipende da che tipo di mole di superficie esprimono eccetera quindi ci sono sia motivi anatomici che invece motivi legati proprio all'interazione con la cellula nicchia ok allora siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata dedicata alle staminali del cancro saluto ancora anche Gabriella Arianna e Cristian che ci mandano i loro saluti e il loro sostegno grazie molte grazie ad Anne a Pier Giuseppe che hanno affrontato stasera con noi degli argomenti molto complicati da spiegare però grazie perché siamo riusciti a dare un quadro di questa popolazione molto particolare e soprattutto di come vi state muovendo voi ma tanti colleghi per studiarle e per riuscire a trovare delle strategie per diciamo controllarle ucciderle neutralizzarle brava neutralizzarle va bene allora continuate a sostenere i nostri ricercatori grazie a tutti per essere stati con noi e una buona serata ciao grazie a voi